Concerti e passeggiate culturali al tramonto nel Parco Naturale Regionale di Porto Selvagio e Palude del Capitano di Nardò. Ennauna Festival, la rassegna culturale nata da Enza Pagliara e Dario Muci, musicisti e ricercatori di tradizioni orali, che trasformano un palcoscenico a cielo aperto in un'esperienza di ascolto. Pagliara e Muci insieme a Gianluca Longori propongono un repertorio di musica e canti dimenticati per voce plettri che unisce la ricerca alla riproposta. Tutti e tre da tempo protagonisti di percorsi artistici di alto profilo li incarnano e li impastano con i tempi e le storie che vivono, svelando la vitalità del passato sullo sfondo del presente. Il parco è il nostro gioiello per eccellenza del nostro territorio e ormai da due stagioni abbiamo fatto nascere questo meraviglioso calendario di scoveri dove all'interno ci sono una serie di eventi culturali legati all'ambiente e di fruizione del parco in una maniera nuova, attenta e che va a valorizzare quello che è il nostro territorio. Il Nauna che è uno dei progetti di punta del calendario di scoveri che va a creare dei percorsi delle passeggiate culturali all'interno del parco e vanno poi a terminare con dei concerti al tramonto in diversi luoghi magici del parco. Lo facciamo quindi con uno scenario circondati dalla natura, dal mare e dalle torri costiere. Grazie.